Figura tra le più significative della destra storica italiana, presidente della Camera dei Deputati prima dell'unificazione, Giovanni Lanza, è tra i principali esponenti della classe politica, che riuscì a garantire il completamento dell'unificazione, e la tenuta dello Stato unitario dopo la morte di Cavour. Lanza nasce a Casale Monferrato il 15 febbraio 1810. Laureatosi in medicina nel 1832, per alcuni anni esercita la professione di medico in diverse città del Piemonte, distinguendosi per la sua azione contro il colera. Ammalatosi decide di dedicarsi alla vita politica locale, ed all'agricoltura, sperimentando nuove tecniche agronomiche. All'inizio degli anni 40 diventa un esponente di punta del nascente liberalismo piemontese, schierandosi su posizione di centro-sinistra. Volontario nella Prima Guerra di Indipendenza, è eletto deputato per la prima volta nel 1848, e riconfermato fino alla morte. Negli anni 50 dell'Ottocento si avvicina progressivamente alle posizioni di Cavour. È ministro della pubblica istruzione nel 1854-1855, e promuove importanti riforme del sistema scolastico ed universitario. Dopo essere stato ministro delle finanze nel 1858, è presidente della Camera nel 1860-1861, segnalandosi, per il suo rigore procedurale. Alla morte di Cavour, Lanza è oramai uno dei leader riconosciuti della destra storica. Il 27 settembre 1864 all'indomani dei sanguinosi tumulti di Torino contro lo spostamento della capitale a Firenze, è ministro dell'interno nel governo La Marmora. In questa veste, partecipa all'elaborazione delle leggi di unificazione amministrativa, 20 marzo 1865. Nuovamente presidente della Camera, tra 1867 e il 1869, si segnala per la sua intransigente linea di austerità, e guida l'opposizione, alle discusse misure finanziarie del governo Menabrea. Forte del prestigio raggiunto, nel 1869 succede allo stesso Menabrea, ed assume la presidenza del Consiglio. Durante la sua esperienza governativa, realizza il risanamento delle finanze dello Stato, promuove la conquista di Roma, e la sua annessione al Regno d'Italia, nel 1870. A lui si deve pure l'elaborazione della legge sulle guarantige, ed il trasferimento della capitale a Roma. Nel 1873, lascia il governo, dopo aver gestito con mano ferma questa complessa fase della vita nazionale, a causa dello sfaldarsi della sua maggioranza parlamentare. Pur malato, continua a partecipare assiduamente ai lavori parlamentari. Muore a Roma, il 9 marzo, 1882. Ho sempre creduto e credo che il governo, non debba in alcuna maniera influire con mezzi governativi sulle elezioni. A mio parere il governo deve solo sorvegliare, a che gli elettori votino secondo la propria coscienza, eliminando ogni illegittima influenza, ed attendere impassibilmente il giudizio della nazione.